Dichiarava redditi esigui ma possedeva ricchezze accumulate nel tempo grazie alle attività illecite come il traffico di sostanze stupefacenti. Per questo i carabinieri del nucleo investigativo di Taranto hanno eseguito in esecuzione di un decreto del Tribunale di Lecce un provvedimento di confisca di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di 610 mila euro nei confronti del pluripregiudicato Cosimo San Giorgio, 42enne di La Terza, detto Mimmo Re, già sorvegliato speciale di sua moglie 35enne e dei loro due figli. Le indagini, sottolineano gli inquirenti, hanno consentito di evidenziare la pericolosità sociale del pregiudicato abitualmente dedito a traffici delittuosi di varia natura, specie nel settore degli stupefacenti. Dagli accertamenti è emersa la rilevante sperequazione fra gli esigui redditi dallo stesso dichiarati e l'ingente patrimonio a lui riconducibile, anche a fronte del suo elevato tenore di vita. Le considerevoli ricchezze accumulate sarebbero il frutto di varie attività illecite consumate nel tempo. La misura di prevenzione ha interessato beni immobili e finanziari, fittiziamente intestate agli stretti congiunti del pregiudicato, ma a lui direttamente riconducibili. I sigili sono stati quindi apposti ad una lussosa villa, la terza, con annesso opificio e terreni attigui, a due aziende, a 19 buoni fruttiferi postali, per un totale di 47.600 euro. Il provvedimento conclude un iter processuale scaturito dalla proposta di sequestro preventivo, già eseguito in due tranche, avanzata dal nucleo investigativo, al termine di complessi accertamenti patrimoniali che sono stati integralmente condivisi della Procura Salentina.